Ciao ragazzi, sono Matteo Deloremovi come sapete io ho già stato il torneo di Briscola doveva venire Milano a farmi filmato ma Milano non si è visto non si sa che fine abbia fatto non pervenuto ha fatto mia mamma quel che ha potuto ha filmato un po' i giocatori vedete anche me che sono indoacparato a giocare niente, vi lascio il video ragazzi grazie 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 Sì, ci sono andato a guardare di rischio, ma qualcuno mi ha fatto i video per me. Mi sta incantando, come ho detto prima, sono a Cremone, il concerto, arriverà il video su YouTube, tranquilli.